Sono robe orrende, sono brutte, perché fa male l'indifferenza, fa male l'indifferenza Giovanni, quell'indifferenza sulla quale tu ti sei tanto battuto nella scorsa puntata, perché tu stesso, lasciami finire e poi parli, tu stesso hai invocato, parlandoci della tua malattia, ti sei scagliato contro il pregiudizio, contro l'ignoranza, e quella che io ho visto anche da parte tua è solo pregiudizio e ignoranza. Allora Alfonso, io sicuramente ce l'avevo con lui per quello che aveva detto. Non ho assolutamente capito il suo disagio, perché il suo disagio non l'avevo capito, non si capiva assolutamente quello che stava succedendo. Quando l'abbiamo trovato a terra non si capiva, perché era già successo diverse volte, se stava piangendo, se stava pregando. Ma no Giovanni, non dire cazzate, ma cosa vuoi che uno preghi? No, per piacere non diciamo cazzate, almeno di ho sbagliato, Giovanni, ti prego, ti prego, lo dico per te. Alfonso, stai dicendo un'enorme cazzata. Alfonso, io ti dico, ho sbagliato, sicuramente. Grazie. Allora Alfonso, io ti credo, sicuramente. Allora Alfonso, io ti credo, sicuramente. Grazie a tutti.